Nelli al progetto Rio 2016, uno dei bomber dell'Italia di oggi e anche di domani, protagonista anche in campionato in Superlega con Trento Capolista, adesso ha vissuto questa due giorni azzurra, che sensazioni ti ha lasciato? Sono sensazioni bellissime essere qua, perché vuol dire che qualcuno crede in me e nei giovani di oggi, sono sensazioni che nessuno non può lasciare passare perché ti rendono felice e ripagano il sacrificio che fai in palestra tutti i giorni, stare lontano dalla famiglia e alla fine sono qua per questo. Senti, tu sei ancora molto giovane, però già hai avuto la fortuna di incontrare sulla tua strada diversi maestri, da Marco Bonitta con la Nazionale Juniors a Stoicev che ti sta seguendo e facendo crescere, oggi Berruto e nei prossimi mesi anche Totire con l'attività a livello estivo di probabilmente dei giochi olimpici europei di Baku e il Mondiale Under 23. Sì, loro sono tutti grandi allenatori e devo dire che sono contento di averli avuto nella mia carriera e spero di averli per altrettanti anni perché mi hanno aiutato un sacco a crescere tecnicamente e anche mentalmente perché finché giochi nelle squadre con ragazzi giovani è più facile della tua età. Poi quando comincio a giocare a categorie più alte, A1, A2, B1, quelle categorie là è veramente difficile più che altro la concentrazione mentale, rilassarsi, stare tranquillo. Quindi con loro sto lavorando, mi impegno sempre con ogni allenamento e sono contento che vada così. Mi sembra che al di là delle doti fisiche, tecniche e di potenza una delle tue caratteristiche sia questo carattere virgolette sbarazzino che ti consente di entrare in campo e cercare di dare sempre il massimo senza guardare chi c'è dall'altra parte della rete. Sì, l'importante è quello, non farsi prendere dall'ansia, dall'emozione perché altrimenti non riesci a giocare la tua pallavolo. Devi mantenere le emozioni tranquille, calme anche se ce ne sono tanti i primi periodi, però lavorando in palestra e avendo la possibilità di giocare queste cose qua rimangono ma stanno più leggeri quindi riesci a giocare la tua pallavolo e con i compagni che ti aiutano in campo è ancora più facile.